Purtroppo non c'è da meravigliarsi perché è la casa, il luogo privato nel quale l'intervento sociale pubblico non è intervenuto e quindi il virus, che è un bastardo, si rifugia negli ambiti dove non c'è controllo. Oggi le regole di sanificazione, per fortuna io li ringrazio, sono molto attivi negli esercizi commerciali, nei bar, nei ristoranti e tutto quello che sappiamo. E certo, c'è ragione, è proprio che si annidano dentro le case, ma addirittura nelle cosce delle vostre moglie, ci annidavano questi virus e posso venire io a stanarlo, sai ho questa capacità, ho un attrezzo che serve proprio a stanarlo. Sembrano quelle scuse, sai no, quando esci da ragazzetta, da ragazzo, giovane, non sai come dirglielo, dici, sai ma è come il calippo, non ho capito. No, dico è come un gelato, gelato, sì, è come un gelato, sicuramente è il gelato, no, è il calippo e tu lo, è un po' più caldo, non è così freddo, è uguale, vuoi provare? E tu fai, davvero, e ti inventi i modi e questi fanno la stessa cosa, ti stanno a trattare, sembra un maniaco, un pedofilo, cioè non lo so che cazzo fanno. E va bene, quelli fanno sta cosa, ma la gente che c'è casa, io non, ve lo meritate, cioè non so che dire. Buon proseguimento, via. Ah, dimenticavo, girano altri due profili fake, a nome mio, su Facebook, ne girano due, in contemporanea, che danno dei premi su degli eventi che devo fare a novembre, non è vero. Lo ripeto ogni volta, insomma, ve lo ridico, non sono io. Poi, per verificare, e questo vale per la pagina mia o qualsiasi pagina, andate a vedere che sulla pagina non ci sono i follower, ok? Per cui è una cosa di creata, purtroppo fanno copia e incolla, si rubano le foto e fanno un altro profilo, poi ne fanno un altro ancora, non gli dice niente nessuno, segnaliamo, denunciamo, è uguale, però io lo faccio sistematicamente. Quando capita questa cosa, non sono io, ok? Ve lo ripeto, insomma, ecco, volevo dirvelo, le sole sono tante, a qualsiasi livello, hai visto? Poi non sai mai dove è la logica. Quelli che fanno i rappresentanti, i governanti, peraltro pagati, cioè quelli vengono pagati per farci da maniaci, per farci delle proposte indecente sotterranee, delle robe strane. Quell'altro invece riproducono, riproducevano i fake, le truffe, gli impicci. Vabbè, comunque, attenzione ai presidenti della regione e attenzione soprattutto al profilo mio che non è il mio. Vabbè, ok? È gente che si inventa queste cose. Ciao.